un caro saluto a tutti da marzia di hobby shop bomboniere.it telefono 0 3 7 5 5 9 1 4 1 vi presento una dolcissima bomboniera per una bimba veramente in questo caso sono due bimbe che festeggia il suo battesimo vedete un bellissimo tulle a pizzo oceania il portachiavi orsetto che adesso ve lo faccio vedere meglio è realizzato con il ciondolo orsetto il mio battesimo e perle a mano uno per uno da noi abbiamo poi una bellissima particolarità il nastro con la scritta il mio battesimo che la rende veramente speciale ecco la visione di una nuvola rosa il vassoio pronto per essere consegnato saluti a tutti